Possiamo notare i satelliti che cercano di avvicinarsi ai punti verdi che ruotano sull'asteroide. L'obiettivo infatti è allineare la parte del satellite che può fare le foto al punto in questione. In seguito è necessario nascondersi dietro la zona d'ombra in modo da evitare i raggi solari che altrimenti danneggerebbero i satellite.